E non ce la fanno più, quelli che riposano, e magari non sei tu, quelli che ci servono, non manca nessuno, siamo tutti i tempi di R101. Ma buongiorno amici, buon sabato 17 giugno 2023, a tutti come state, spero tutto bene, iniziato un altro sabato, due minuti dopo alle 10 del mattino. Buongiorno, sono Phil Grondora, siete su R101, saluto Lucilla Agosti che anche questa mattina come ogni weekend ci ha svegliato, saluto il gran maestro Paride MC che con grande gioia ed entusiasmo si ferma con me in regia per le prossime ore, fino alle 13 siamo quelli del weekend, qui per condividere il fine settimana e ascoltare la musica, ora è il Simply Red.